Buongiorno, grazie per avermi invitato a portare la mia testimonianza qui. Francesco Alfano ha detto che dobbiamo consegnare un futuro migliore ai nostri figli. Io sono giornalista e sono anche mamma di due bambini che sono qui e che ho chiesto di fare loro un giro mentre parlavo perché non voglio che sentano raccontata da me la storia che poi li riguarda, però l'università è anche molto da vicino a chi è visto anche coinvolti. Io penso che lo stiamo già costruendo, lo migliore, se siamo qui con questi ragazzi così giovani a parlare di libertà di informazione, di giornalismo etico. Se c'è qui una giovane giornalista come Esther Castano che è animata da valori molto forti, da valori morali ed etici così quotidianamente vissuti.